Veni il sole se gli stai addosso, no, ti vuoi la vita in prima linea di ogni costo. Parigi, val bene, una messa. Bentornati alla nuova puntata delle Fritte. Ciao Marco. Ciao Pietro. Ciao a tutti. Puntata difficile, bene dirlo fin dall'inizio, perché oggi tratteremo di anni 70, prendendo spunto da quello che è accaduto, o quello che sta accadendo, tra Italia e Francia, che è sulla stampa italiana, perché, devo dire, sulla stampa francese la notizia di questi arresti praticamente non sta avendo lo stesso risalto, diciamo, per chi legge la stampa francese vedrà questa differenza incredibile tra i due paesi. E quindi proveremo a mettere due, tre punti fermi, perché leggendo e ascoltando la stampa italiana diciamo che ci sono tonnellate di inesattezze, tonnellate di falsità, tonnellate di cose che non hanno un fondamento storico. Quindi, o almeno ce l'hanno parzialmente, chi non conosce due, tre coordinate, ovviamente può farsi un'idea molto diversa rispetto alla questione. Quindi, cominciamo da sti anni 70, no? No, noi abbiamo fatto un video, a cui rimandiamo i nostri ascoltatori, sul fatto che gli anni 70 non solo sono anni di piombo, no? Esatto. Sì, e invece quello che traspare nei commenti, nei sui media, è questa immagine. Gli anni 70, uguale, e parte il filmato sul ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, o altre scene drammatiche, nelle versioni più aperte ci sono le stragi anche, non solo il terrorismo di sinistra. In realtà, gli anni 70 furono un periodo, un quindicennio di conflittualità sociale fortissima che non solo fu un momento di arricchimento e di cambiamento del paese, ma anche, da un punto di vista legislativo, o produsse una serie di riforme, nel senso vero, non nel senso del nuovo millennio, che quando parlano di riforme devi metterti immediatamente spalla al muro e fare attenzione, importantissime che hanno trasformato completamente il paese. Allora, questo è il primo punto. Il secondo punto, che è stato scritto e anche blaterato parecchie volte, è questa ormai celeberrima, dottrina Mitterrand. Tutti dicono, la dottrina Mitterrand diceva questo, diceva quello. Allora, cosa diceva la dottrina Mitterrand? Allora, la dottrina Mitterrand, che non è che Mitterrand pensasse che l'Italia fosse il Cile di Pinochet. Quello che pensavano moltissimi intellettuali francesi, e Mitterrand raccolse quest'aia, fu quella che era la legislazione d'emergenza, che è riconosciuta come tale, e se oggi ci stanno tonnellate di articoli di giuristi sui limiti e le rotture dell'ordine costituzionale che furono legate alla legislatura d'emergenza, mettesse in discussione alcuni diritti fondamentali dell'imputato, ragion per cui Mitterrand, diciamo Mitterrand come dottrina Mitterrand, ma dopo di lui, presidenti di destra, Girac, e di sinistra, Hollande, hanno continuato a mantenerla. Quali erano questi elementi per cui i francesi dicevano che non è tutto liscio? Nella legislatura d'emergenza, che si chiama d'emergenza perché c'era l'emergenza del terrorismo, furono forzate alcuni principi giuridici in maniera pesante. Fa alcuni esempi tra quelli che maggiormente infastidivano i giuristi francesi, erano l'aggravante nelle pene per reati di terrorismo. Cioè, tu fai una rapina e prendi dieci anni, se la fai per terrorismo sono venti. Il processo in contumacia, che visto che c'erano i latitanti, la gente che scappava, la giustizia italiana processava ugualmente. Secondo la dottrina giuridica francese, il fatto che l'imputato non sia presente e non possa difendersi, è una lesione grave, visto che non esiste un reato di latitanza. Un altro problema grosso è la legislazione sui pentiti, che non esiste, non esisteva in quel periodo in Francia, e che fu alla base di tutta una serie, era l'elemento fondante di tutta una serie di processi. Allora, quando si dice, per esempio adesso, ah, ma è un delitto e un delitto, chi ha ammazzato qualcuno deve scontare la sua pena. in Italia, per uscire dal terrorismo, molti assassini, anche molto più assassini, se è possibile fare una graduatoria quando si parla di questo, non hanno scontato la loro pena. Perché si sono pentiti? Cioè, che cos'era il pentitismo? A parte questa aggiunta etico-morale, era sostanzialmente dire in quell'azione c'era Tizio Caglio Sempronio, ed essere un elemento di prova fondamentale in sede processuale. Poi ci sono tante altre cose, che erano l'aumento della carcerazione preventiva, che veniva ampliato per reati per terrorismo, il fermo di polizia, che in caso di inchiesta sul terrorismo passava da 48 a 48 più 48, la possibilità di fare delle perquisizioni senza mandato, insomma, tutta una serie di cose che hanno incrinato alcuni elementi fondamentali dello Stato di diritto. Non approvando questa situazione, i francesi dissero, con la dottrina Mitterrand, diedero ospitalità a queste persone che erano scappate. Oggi torna molto il discorso del... La dottrina Mitterrand era indirizzata a chi non era responsabile di sangue. No. Diceva chiaramente che non riguardava stragisti, ma sapeva benissimo, non è che Mitterrand e tutti gli altri presidenti fossero scemi e pensassero che in Francia ci fossero solo delle mammole innocenti. C'è una frase che ho ritrovato di Mitterrand del 1985 nella quale dice «I rifugiati che hanno preso parte in azioni terroristiche quindi stiamo parlando di una cosa ben precisa prima del 1981 hanno rotto i legami con la macchina infernale a cui hanno partecipato, hanno iniziato una seconda fase della loro vita, si sono integrati nella società francese. Ho detto al governo italiano che erano al sicuro da qualsiasi estradizione». Quindi questa è la dottrina Mitterrand. Più chiaro di così. I motivi per cui nasce la dottrina Mitterrand. Esatto. Quindi non ci sono distinguo, non ci sono insomma nulla di quello che avete sentito in questi ultimi giorni sui distinguo, su questo ha sparato, questo ha ucciso. No. Questa era in breve la dottrina Mitterrand. Allora Marco, passiamo adesso a chi sono queste persone che sono state nel frattempo catturate e rilasciate, spiegheremo perché. Perché anche qui si è fatto sono tutti brigatisti, sono tutti terroristi. No, non è così. Tra di loro ci sono delle differenze e non sono differenze di poco conto quando parliamo di questi argomenti. Prego. Esatto. Le dieci persone sono sei ex brigate russe, due di altri gruppi armati minori, tra virgolette, uno è di lotta continua, quello più famoso, Pietro Stefani, e uno è dell'autonomia operaia. Queste dieci persone e otto si sono riconosciute colpevoli di una serie di reati e anche di omicidi. Quattro hanno l'ergastolo, quello di lotta continua, e quello dell'autonomia operaia si professano innocenti. Perché sono stati già rilasciati? Perché appunto è stata propagandata un poco come la seconda tornata dopo Cesare Battisti. E quindi tutti questi giornalisti entusiasti del cambio in Europa, alcuni hanno detto che questo segnava la nuova Europa. In realtà si è avviata una procedura giudiziaria che sarà lunga, probabilmente si parla di anni, e fra l'altro si è avviata una procedura giudiziaria. L'Italia ha forzato con questa richiesta perché in alcuni casi, visto che non sono tutti condannati all'ergastolo, siamo borderline con la prescrizione. Quindi la forzatura, l'accelerazione serve a bloccare il meccanismo della prescrizione che in Italia funziona solo per gli scorni. Arrivano tutte le prescrizioni. Fra l'altro, un'altra cosa veramente disgustosa è stata questa spiaccigare le foto di 40 anni fa perché non era molto vendibile sulla finalmente lo Stato è sicuro, ha sconfitto il terrorismo e mette la fotografia di gente tra i 65 e i 79 anni. Cioè, e quindi hanno tutti la fotografia di il lotempore e non adesso. Se in questi casi a parte due per otto riconoscono le loro colpe, non è che in Italia in quegli anni tutti i processati erano colpevoli. Se uno pensa forse al caso più emblematico il processo 7 aprile sono decine e decine gli imputati che alla fine saranno assolti con formula piena ma che si sono fatti tra i 4 e i 5 anni di carcere e non di carcere di carceri speciali in quanto imputati per terrorismo. Marco, allora, proviamo ad avviarci alla conclusione con la conclusione tra virgolette nel senso che è stato discusso soprattutto negli anni 80 poi di nuovo negli anni 90 una chiusura politica della stagione della lotta armata. fatemi fare questo esempio dopo eventi drammatici di questo tipo bisogna sempre trovare una soluzione per ripartire io faccio sempre l'esempio del Sudafrica di Mandela e dell'Apartheid cioè un paese che per 50, 60, 70 anni ha trattato le persone di colore come schiavi li torturavano gli dava i diritti come dire esiste una giustizia transizionale così si chiama che a un certo punto deve nonostante sono fatti dolorosissimi bisogna trovare un modus operandi per chiudere quella stagione e per ripartire. Cosa è stato fatto in Italia da questo punto di vista Marco? Da questo punto di vista nella seconda metà degli anni 80 e all'inizio dei 90 si aprirono discussioni e ci furono anche elementi concreti l'unico che ha prodotto degli effetti fu nell'86 l'approvazione della legge Cozzini che riconosceva e dava sconti di pena per la dissociazione e non il pentitismo che cosa era la differenza il pentitismo era tu fai il nome di qualcun altro e lo fai andare in galera e con questo ti sconto la pena vedi in alcuni casi proprio non la fai la pena esci di galera rapidamente la dissociazione era il riconoscere la sconfitta il rendere le armi che fu fatto anche concretamente fisicamente alcune organizzazioni armate fecero ritrovare nel vescovato con il cardinale Martini a Milano che aveva seguito e favorito questo processo di riconciliazione fecero trovare le armi sostanzialmente riconsegnarono le armi grazie alla legge Cozzini molti delle persone che avevano fatto o partecipato alla lotta armata che si trovavano in carcere hanno avuto poi degli sconti di pena delle facilitazioni di semilibertà tutte cose che poi sono andate fino a un certo punto perché poi rimane sempre questo nodo del pentitismo finale per cui noi abbiamo oggi due casi da un lato e dall'altro Mario Moretti e Mario Tuti quindi le Brigade Rosse e il neofascismo che stanno in semilibertà dopo essere stati in galera per variato tempo e continuano dopo 40 anni a stare in semilibertà cioè significa che tornano devono tornare a dormire in carcere questo nonostante che siano non solo anziani ma due persone completamente differenti reinserite che lavorano nel sociale però siccome non hanno detto mi pento mi pento per mia colpa mia colpa mia grandissima colpa continuano a tornare in carcere fu Cossiga addirittura il padre della legislazione d'emergenza che propose ripetutamente una soluzione politica a quegli anni comprendendo il dolore dei familiari di tutte le vittime però diceva in qualche maniera è finito il terrorismo queste persone non sono dei delinquenti abituali Cossiga nel 91 addirittura era ancora presidente della repubblica preparò un decreto di grazia per alcuni terroristi fra cui Curcio e fu il governo Andreotti che avvocò questa procedura per bloccarlo dopo finito questa fase degli anni 90 purtroppo venne mani pulite e venne tutto questo delirio in cui in un balletto continuo quello che rimane della sinistra è quasi peggio di quello che c'è della destra dal punto di vista la galera è quello che è fondamentale tutta pensate solamente a tutta l'opposizione a Berlusconi con i girotondi in galera in galera perché è un evasore fiscale perché ruba e poi però non si parla dei contenuti politici esatto delle politiche e un'altra cosa che è stata centrale nei media nel racconto dei media anche parlando di soluzione politica dicono sì va bene devono tornare devono andare in galera poi li tiriamo fuori perché sono anziani ma soprattutto devono tornare andare in galera e dirci quello che è successo allora noi invitiamo vivamente a leggere i libri di storia perché del terrorismo della lotta armata di sinistra si sa tutto gli unici che pensano che ancora ci siano i misteri i misteri del caso Moro o è la commissione stragi parlamentare che si auto rinnova trovando maniera di fare questi dibatti esoterici su c'era il camorrista viafani no ma c'era pure quello del tedesco no ma c'era pure quello dei servizi segreti israeliani cioè no del terrorismo di sinistra si sa tutto e chiudiamo questa puntata con visto che parliamo di anni 70 a caso proprio come si dice a fagiolo dalle nostre parti perché in questi giorni esattamente un paio di giorni fa il 28 è stato il cinquantesimo compleanno del giornale Il Manifesto eccolo lì questa prima pagina la prima pagina del primo numero del 28 aprile 1971 di questa piccola testata che nonostante tutte le difficoltà continua a esserci da 50 anni ben altri colossi sono sono spariti ma il Manifesto con tante difficoltà con rotture anche interne nel collettivo redazionale è sempre lì a offrirci quotidianamente una lettura differente di quello che succede e quindi insomma gli facciamo gli auguri e altri 100 di questi giorni e speriamo che ci continui a tenere compagnia nelle nostre nelle nostre giornate noi vi diamo insomma vi salutiamo vi ringraziamo di aver ascoltato questa puntata e vi diamo appuntamento alla prossima settimana a presto ciao ciao